Dimitri Sosa è la guardia alla guardia della Juve Caserta allora Dimitri dopo una partenza in sordino in questo campionato stai giocando egregiamente stai dando un ottimo apporto alla squadra quando sono stato chiamato dal coach sempre cerco di dare il mio sia in difesa in attacco dando energia potendo giocare sia da quattro tre o due qualsiasi modo per aiutare la squadra a vincere io sono qui per farlo infatti nelle ultime partite diciamo è stata apprezzata la tua la tua prestazione anche con ottime realizzazioni dal campo e con buone percentuali sì io cerco di sempre prendere i tiri in ritmo dei tiri che il gioco mi dà non cerco di forzare situazioni per segnare io siccome sono un giocatore di energia è normale che qualche volta i contropiede ho anche delle buone percentuali di tiro ok Dimitri tu già conosci il campionato di serie A2 perché provieni da un'altra società ma quest'anno come vedi questo torneo comunque penso il livello sia simile dall'anno scorso sono tante squadre molto attrezzate molti giocatori di livello americani anche molto forti quindi ogni gara se già visto squadre come verona che hanno perso sia orzi nuovi che a mila contro milano quindi non c'è mai una gara semplice possiamo dire ok domenica scorsa bella vittoria in casa però adesso si va a giocare un'altra difficile trasferta a Ferrara sì sicuramente Ferrara è una buona squadra e hanno anche un campo molto difficile da abbattere noi non siamo al completo quindi dobbiamo avere ancora di più l'approccio che abbiamo avuto contro Mantova dobbiamo entrare aggressivi sin dal primo minuto e mettere pressione e cercare di togliere i loro punti di forza Come ti trovi con questa squadra con i compagni della Juve Caserta? Molto bene molto bene siamo molto uniti sia fuori che dentro del campo è comunque una squadra nuova quindi penso dell'anno scorso ci sono solo due ragazzi quindi è ancora nuovo come squadra però siamo bene insieme penso anche i risultati si vedono per quello Grazie